salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti domani sarà una data molto importante per la futura riforma pensioni in quanto avverrà l'ennesimo incontro tra sindacati e governo il 27 gennaio ovvero negli scorsi giorni si è tenuto il secondo incontro vediamo che cosa è successo in questo video prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente è tutto gratuito come dicevamo domani si terrà un incontro tra sindacati e governo ma solo il 27 gennaio se ne è tenuto un secondo dove cgl cis le will insieme al governo hanno discusso riguardo le modalità di intervento a favore di quei soggetti previdenzialmente più fragili che con il sistema contributivo non riusciranno ad ottenere pensioni dignitose ovvero parliamo delle persone che non riusciranno a ottenere trattamenti previdenziali superiori alla soglia di povertà che l'istat calcola in 1011,50 euro per una persona che vive in una grande città del nord oppure in 930,27 euro in un grande centro del mezzogiorno nella seconda parte dell'incontro governo e sindacati hanno affrontato inoltre il tema della previdenza complementari in tal caso si tratta per le organizzazioni sindacali di rendere favorevole l'adesione ai fondi negoziali di categorie di lavoratori non particolarmente sensibili ai temi della previdenza complementare anche per le loro condizioni di lavoro di tipo oggettivo ovvero i giovani e le persone occupate nelle piccole imprese come dicevamo a inizio video domani si terrà un ulteriore incontro vedremo insieme in un futuro video che cosa ne sarà uscito e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti